Sì, è un'avventura che abbiamo intrapreso da qualche anno e che stiamo cercando di sviluppare seguendo dei temi che rappresentano dall'altro la tradizione e dall'altro la formulazione. A questo abbiamo voluto introdurre alcuni elementi di novità, primo fra tutti è l'immunicazione dei participanti. Abbiamo deciso con condivisione sull'arrivo internazionale di invitare gruppi che rappresentano patrimoni iscritti nella lista dell'UNESCO. Devo dire che abbiamo avuto 22 adesioni ma abbiamo dovuto stoppare altre richieste per contenere anche i posti complessivamente. Però il fatto che abbiamo avuto tantissime richieste vuol dire che il format sta funzionando e che è apprezzato sul piano internazionale. L'articolazione l'abbiamo pensata in tre fasce. Il primo weekend sarà dedicato all'unico. dopodichè la parte centrale della settimana sarà dedicata al cibo con mandorlara che è quello che avvolgerà con le scuole alberchiere e altri circuiti scolastici. La parte finale sarà quella tradizionale e con una particolare accentuazione che riguarda le modalità anche di conferimento del tempo nuovo che non verrà dato in una dimensione competitiva ma sarà il pubblico, quindi una notazione popolare, che giudicherà il gruppo che saprà meglio raccontare ed esprimere il patrimonio identitario che viene a rappresentare. Siamo iniziati a lavorare per la 64esia di gestione del mandorle di fiore che verrà dirigendo sempre protagonista dal primo di marzo al 10 di marzo con diverse novità. Sì, quest'anno abbiamo presentato già in mandorle questa primavera a Roma, la sede di San Paesto, e quindi abbiamo cominciato a lavorare già da quando era finita la nazionale con delle crescite. Oggi abbiamo chiare le idee di cosa fare, abbiamo avuto i contatti con tutti i patrimoni batteriali dichiarati dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità e quindi possiamo presentare oggi veramente il dettaglio della manifestazione. È una manifestazione che da quest'anno si inserisce tra le grandi manifestazioni dell'Agrigento. È una delle quattro manifestazioni che sarà fatta dall'Agrigento, per la quale l'Agrigento ciliana comenta, le altre due sono di Santa Volta, il premio di Sciato, il premio Tomasi Rampidosa. Questa è l'unica manifestazione che si va in un periodo dell'anno in cui sarà solo destinata, in quel periodo potuto sarà solo destinato al mandorle di fiore perché non saranno altri grandi eventi del Consiglio del Consiglio. Dobbiamo continuare con la possibilità di vendere questo grande evento nelle grandi ferie nazionali. Il fiore quest'anno segue il cliché dei patrimoni culturali UNESCO, quindi il fatto che siamo sito UNESCO ci consente di nobilitare quelle che sono le nostre tradizioni, ma soprattutto il senso di questa manifestazione pensata oltre 74 anni fa, cioè il valore culturale e politico che è in sintonia con la storia della città perciò che è stata nei 2600 anni dalla sua fondazione. C'è una città che fa cultura dell'accoglienza, che fa accoglienza della cultura, che realizza sentimentazioni culturali e che cos'è il mandorle? Se non questo, che è festa di primavera ma è festa di popoli che si incontrano in un rapporto reciproco di amicizia e condivisione fatto qui, in questa porta sul Mediterraneo. Partire con il sorriso dei bambini per dare ancora più lustro a questa manifestazione che è il mandorle in fiore e far conoscere ai bambini agrigentini anche le culture e le tradizioni dei paesi esteri attraverso altri bambini. Tra l'altro come ogni anno faremo sempre un gesto di solidarietà all'ospedale pediatrico di Agrigento con un gruppo che sarà presente e poi naturalmente alla varie manifestazioni come nei canoni di ogni anno con la passeggiata della pace lungo la Valle dei Templi, il premio Claudio Crescenzo e le varie spettacole sfilate.